Sono Pietro Cernetti dei Pulcini 2009. Il mio giocatore preferito del Cili è Simone Menni, perché ce la mette tutta sia in campo che fuori. E li vorrei chiedere, siccome è in scadenza quest'anno del Cili, li vorrei chiedere se può stare ancora qui. Ciao! Ciao, da Pietro. Ciao Pietro, grazie mille per questo video e mi fa molto piacere ricevere questi messaggi d'affetto. Per rispondere alla tua domanda vorrei dirti che come prima cosa dobbiamo pensare a concludere la stagione e a salvarci, anche se siamo in un periodo un po' particolare. E per quanto riguarda l'anno prossimo, io qua Cili Verghe mi sono sempre trovato bene con la società, con i miei compagni, anche grazie a voi ragazzi che ci avete sempre aiutato e mandato questi messaggi d'affetto. quindi dobbiamo pensare a salvarci e per l'anno prossimo vediamo. Grazie mille per questo messaggio e ti aspetto a casa Cili.